In Piazza Colocci davanti al Palazzo della Signoria c'è anche lo spazio del calcio, c'è anche lo spazio della Iesina Calcio presente con i più piccoli, Alessandro Cossu responsabile del settore giovanile. Allora, lo spazio della Iesina in questa notte azzurra, insomma, che cosa vuole dire alla città in uno dei suoi spazi più storici peraltro? E voi vi aspettate sicuramente una grande dichiarazione. Io voglio dire non alla città, voglio dire che in rappresentanza i nostri ragazzini sono qui per divertirsi. Noi siamo felici, siamo cinque dirigenti che a turno passiamo qui. Dico anche che l'amministrazione ha creato questo evento molto bello. Io ho fatto una passeggiata su tutto il corso, un'organizzazione stupenda. I nostri e i ragazzi delle altre società si divertono. Quale migliore occasione di passare una serata, una nottata, insomma, insieme? Intanto l'attività del Vivaio Leuncello ha preso il via a pieno ritmo. Sì, ha preso il via a pieno ritmo e da lunedì cominceremo ad allenarci con gli orari che dureranno tutta l'annata calcistica. Siamo contenti, ma soprattutto non guardiamo al numero, ma guardiamo che a livello di scuola calcio vengano con noi i ragazzini e i genitori che possano portare i ragazzi che vogliono divertirsi con noi. Per quanto riguarda dai giovanissimi in su, io credo che sia il momento da qui all'anno prossimo di cercare di creare un po' di qualità. Perché comunque sì, abbiamo una squadra interregionale, dobbiamo cercare in tutti i modi di coinvolgere i ragazzi, farli crescere. Credo non tanto tecnicamente quanto mentalmente per arrivare con la testa giusta a poter dare qualche calcio al pallone con la squadra della propria città. Sperando che rimanga in questa categoria per tantissimi anni oppure sia facci a palcoscenici che magari li competono, quindi rivedere dopo tanti anni un AC. Non è detto. In questo momento sicuramente ci sono dei problemi, che sono problemi di tutti, ma credo che comunque sia strada facendo potrebbero essere risolti. Per chi voglia informarsi per fare attività al proprio figlio, dove trovarvi? Anche online, insomma, quali sono i riferimenti? Allora, diciamo che la nostra sede è presso il Polisportivo Cardinaletti e la nostra attività tra i 2007-2008 si svolgerà alle Cardinaletti sul Prato Verde, mentre i 2007-2008 li abbiamo dirottati allo stadio e avranno un campo intero a loro disposizione. Quest'anno ci sono molti iscritti. Credo che il discorso online sia neanche da citare, perché preferiremo che i genitori e i ragazzini venissero da noi e facessero una prova di una settimana. Se stanno bene con noi, noi siamo contenti di tenerli e si iscriveranno.